Grazie. La parola all'onorevole Costa per un minuto e trenta. Grazie Presidente e Commissario. Credo che oggi il Parlamento abbia una grande opportunità, una grande occasione di ribadire che la maternità è un valore sociale e che la tutela della sua salute e di quella del bambino deve essere rafforzata, che una lavoratrice non deve essere discriminata a causa della maternità, nell'accesso e nella permanenza nel lavoro, che la cura dei bambini va più condivisa con i padri. E anche se in tempi di crisi, come qualcuno sottolineava, dobbiamo fare una riflessione che ormai tutti gli economisti più avanzati fanno. E cioè la valutazione d'impatto appunto fatta dice che dobbiamo avere un approccio più lungimirante e più olistico. I costi di oggi, che possono essere poi eventualmente graduati, sono un investimento sociale e un investimento economico in maggiore benessere dei bambini, in riduzione delle patologie e in una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Molti affermano che non ci sarà nuova occupazione femminile di qualità e più occupazione femminile se non ci sarà un nuovo welfare e nuove opportunità di conciliazione. Condivido fortemente e ringrazio la relatrice Streglia e la relatrice Plum per il lavoro fatto molto complesso, ma tutti i colleghi anche che si sono sforzati a trovare punti di mediazione. condivido l'impianto che penso in tanti abbiamo voluto e cioè quello di prevedere un ampliamento per le madri di bambini disabili, per le adozioni parti plurimi, la possibilità di orari flessibili, l'inversione dell'onere della prova contro le violazioni delle norme e per tutelare maggiormente dai licenziamenti. Ecco, anche proposto con altri colleghi che rispetto alle sei settimane obbligatorie dopo il parto ci sia però una clausola di salvaguardia per i Paesi che hanno una legislazione che prevedono anche prima del parto questa quota obbligatoria. Chiudo dicendo che sarei auspico che si possa trovare in queste ore, in questi due giorni, tutta la volontà di trovare un punto di mediazione perché non perdiamo anche questa legislatura un'occasione importante come quella di approvare questa direttiva. Grazie. Signora Presidente, signor Commissario, colleghi, quando si parla di equa suddivisione delle responsabilità in famiglia tra uomini e donne con l'obiettivo